Napoli favoritissimo in casa contro il Cagliari a 1 e 12 ma colleghiamoci subito con Napoli con Antonio Petrattuolo per il suo pronostico. Napoli-Cagliari è una partita sulla carta semplice quindi il Napoli deve fare attenzione chiaramente parte favorita come dice tu Luca perché è una gara che il Napoli gioca in casa al San Paolo forte del proprio pubblico quindi deve cercare assolutamente di vincerla ovviamente attenzione al Cagliari io però credo poco nella possibilità di una macchia così come si dice in germe. Quindi Antonio credi che sarà ancora una partita da over oppure stavolta il Napoli tirerà il piatto? Ormai scaravanticamente sta diventando quasi un refrain questa della gara da tanti gol chiaramente obiettivamente potrebbe essere una gara da over però ecco il Napoli ci ha abituato a grandi sorprese vincere e soprattutto in questo caso molto importante però dovendo esprurre un mio pensiero un mio parere non posso che non dire che questa sarà una gara da tanti gol quindi sono d'accordo con gli amici di unibet che quotano basta la vittoria del Napoli e soprattutto con tanti gol alla prossima